ciao a tutti sono francesco mandelli vi volevo dire di andare ad ascoltare corrado il mio amico corrado nelle sue serate di piano bar è un grande un mio amico quindi lo supporto mi raccomando ragazzi nella zona di torino intorni andate a sentirvi corrado ciao ciao a tutti corrado mi raccomando il mio amato no 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 A presto A presto A presto A presto